Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto e permettetemi di iniziare il nuovo anno scolastico con un nuovo videocorso dedicato a quella che considero una chicca. Vi mostro cioè come usare un comodo tacquino digitale, vedete senza fronzoli, una pagina web dedicata alla scrittura, all'inserimento di testo, forme ed altro, direttamente via browser, nulla da installare, adatto a tutti gli ordini di scuola a mio avviso e il sito di riferimento è sketch, quindi la risorsa si chiama sketchpad, ma il sito di riferimento è appunto sketch.io, s-k-e-t-c-h, lo vediamo nella barra degli indirizzi, slash sketchpad. È possibile al bisogno, qualora non lo trovaste in lingua italiana, aggiungere dopo l'ultimo slash i-t. Allora sposto intanto il mio faccione che ci accompagna durante questo videocorso perché vi mostro subito cosa accade quando io vado a sinistra in colonna sul più ed aggiungo anche che questa risorsa è utilizzabile su monitor touch, dunque su monitor interattivo, ma anche sullo schermo di un tablet o di uno smartphone, chiaramente con un polliciaggio, quindi una grandezza inferiore, su una lim sul nostro notebook, quindi sul nostro computer, mediante un comune browser e sapete che io consiglio sempre Google Chrome e Mozilla Firefox. Andando sul più posso ad esempio, esposto ulteriormente la mia faccia, cliccare su taccuino, ma potrei scegliere allineato, la carta millimetrata, fogli staccabili addirittura, un foglio completamente trasparente, ecco partendo da taccuino con un clic su crea, eccoci qua, classica pagina da quaderno, ecco cliccando inoltre sempre in alto nella nostra colonna sul pulsante matita, vediamo la ricchezza delle opzioni per ogni strumento, se infatti io clicco su matita e vado sulla sua tendina subito a destra, vediamo che la matita può divenire penna e allora a questo punto ho la possibilità di scegliere riempimento e contorno, nonché lo spessore del tratto, semplicemente tenendo premuto il tasto sinistro del nostro mouse in questo caso e spostando il cursore che state osservando, ecco se io voglio dedicarvi un bel ciao, guardate che meraviglia, immaginate di scrivere e tracciare con lo stilo appunto su monitor interattivo o LIM, di utilizzare la tavoletta grafica ma soprattutto di poter fare tutto questo veramente da qualsiasi dispositivo e badate senza che occorra alcun account per accedere, quindi una risorsa veramente adatta a tutti gli ordini di scuola. Commentiamo un pochettino i pulsanti principali, pulsante della penna o matita, subito sotto la stella in realtà che cosa è? Beh la possibilità di inserire forme, quindi in realtà io clicco sul pulsante quadrato, lo vedete che può avere riempimento bianco, contorno nero, valutiamo, io clicco sul riquadro nero, ho la tavolozza, posso scegliere un qualsiasi colore in questo caso di contorno, il riempimento è quello che stiamo osservando, tengo premuto il tasto sinistro, traccio e ho comodamente una forma a mia disposizione. Come sposto qualsiasi elemento sul mio sketchpad? Beh cliccando in alto a sinistra sulla freccia seleziona, poi ricliccando sul mio quadrato e spostandolo in questa maniera. Una risorsa veramente versatile, davvero una risorsa adatta per prendere appunti, anche per svolgere una lezione per far disegnare gli alunni magari più piccoli, potendo anche contare ad esempio sulla voce illustrazione che stiamo osservando sempre nella colonna di sinistra, perché io posso in realtà agire sulla mia tendina, selezionare alcune simpatiche icone con lo sfondo trasparente già confezionate o cliccando su carica la tua immagine, inserendo una nostra immagine personale. Vedete, non chiamo questa risorsa lavagna digitale, ma taccuino perché il suo punto di forza a mio parere è proprio la praticità nell'utilizzo. Notiamo anche con un clic che immediatamente poi non appena vado con il tasto sinistro premuto o con la pressione dello stilo, semplicemente con le dita a tracciare sull'area di lavoro. Posso fare anche uno splendido lavoro inclusivo come insegnante di sostegno, ad esempio con i miei alunni H, con i miei alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, mille le situazioni in cui uno strumento familiare e semplice nell'utilizzo possa consentirci di mantenere alta la motivazione dei nostri ragazzi. Nel momento in cui abbiamo terminato poi occorrerà fare che cosa? Guardiamo insieme nella colonna in basso avremo il pulsante export che ribadisco senza registrazione alcuna ci permetterà di fare che cosa? Di effettuare un download del nostro lavoro nei principali formati quali il formato pdf e i formati immagine jpeg o png e sapete che tutte le volte in cui possiamo scegliere un formato png io ve lo consiglio. Alla stessa maniera il tasto diretto print ci permetterà di stampare con stampante accesa e collegata il nostro lavoro, il pulsante share il classico condividi ci permetterà di decidere che cosa? Beh come condividere in formato immagine il nostro lavoro aggiungo un dettaglio formato immagine o formato web page quindi webp lo vedete formato pagina web tutto questo nella versione free nel momento in cui poi andiamo a cliccare sul quadratino che è il consenso sostanzialmente alla condivisione che noi andiamo a fornire clicchiamo condividi diamo qualche secondo eccoci qua affinché la condivisione si perfezioni ed abbiamo oltre alle già viste opzioni di scaricamento la possibilità di cliccare su copy direct link ed avere il nostro lavoro visionabile da parte di un destinatario proprio in modalità condivisione quindi via web insomma vedo veramente tanti motivi per portare a casa in classe su un dispositivo mobile sketchpad ve lo consiglio vi rinnovo naturalmente l'augurio per questo nuovo anno scolastico ormai iniziato in tutte le regioni d'italia e ancora un caro saluto da parte di andrea cartotto sindora appuntamento al prossimo video corso ciao